Occhio a Chris Wolfer! E nonostante il terreno e l'aderezza siamo saliti sulla rampa della Dabut, siamo agli scoccioli, Motolime gustatevi l'ultima combo, pompe, pompe, dell'arena di Motolime. Di nuovo sempre verticale, lo stile di Chris inconcodibile, guardate quanto gira, stretto, di nuovo risalta le appendici posteriori, cambio di gamba, poi il peso che va sul posteriore per stringere la rotazione ed ecco, praticamente fermo, Chris Wolfer! E ora bisogna risalire, bisogna risalire, ecco, 180, non viene, bisogna riprovarci, rilassa un attimo, le braccia e poi, e Surfer! Come fosse una tavola! E' il fotocento R! Di nuovo!